Allora, intanto voglio ricordare il 6 aprile che sei a Roma, l'auditorium della musica e il 16 aprile che sei qui a Milano agli Arcimboldi e poi finalmente voglio che canti, perché è parecchio bella la tua canzone e quindi oggi ci fai tra l'altro una versione acustica inedita e quindi direi che è arrivato il momento Ho arrivato Andiamo? Sei pronta? Chiedo alla regia di inquadrare un'altra roba mentre io andrò lì Perché non vuoi che ti guardiamo da dietro? Promesso, Fabio, non inquadrare a risa, inquadra a me che tanto siete abituati Però guarda che ti potresti far inquadrare tranquillamente, vai, che io ti annuncio Di Antonio Di Martino e Rosalba Pippa, Controvento, canta Arisa Saveri Lanza Io non credo nei miracoli Meglio che ti liberi Meglio che ti guardi dentro Questa vita lascia i lividi Questa mette i brividi Certe volte più un combattimento C'è quel vuoto che non sai Che poi non dici mai Che brucia nelle vene Come se il mondo è contro te E tu non sai il perché Lo so, me lo ricordo bene Io sono qui Per ascoltare un sogno Non parlerò Se non ne avrai bisogno Ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento Risolverò Magari poco o niente Ma ci sarò E questo è l'importante Acqua sarò Che spegnerà un momento Accanto a te Viaggiando contro vento Tanto il tempo Solo lui lo sa Quando e come finirà La tua sofferenza Il tuo lamento c'è Quel vuoto che non sai Che poi non dici mai Che brucia nelle vene Come se il mondo è contro te E tu non sai il perché Lo so, me lo ricordo bene Io sono qui Per ascoltare un sogno Non parlerò Se non ne avrai bisogno Ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento Risolverò Magari poco o niente Ma ci sarò E questo è l'importante Acqua sarò Che spegnerà un momento Accanto a te Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento L'acqua sarò L'acqua sarò Che spegnerà un momento Accanto a te Viaggiando contro vento Ciao a violenza Grazie Brava, bravi Brava Risa Grazie È di Anastasi e Pippa questa canzone Sono di Anastasi veramente Sono di Anastasi? Allora si vede che ho letto male Perché non volevi che ti inquadrassimo Da dietro? Sa Devi superarla questa cosa Dove stai andando? Vieni qua che ci salutiamo Ok Ciao Mi vuoi baciare? Va tutto bene Sei bravissima Grazie Va tutto alla grande Ok Grazie Ciao Alisa Grazie Grazie mille